Anche perché dicevamo prima, velocemente, che questo talent show un po' fa la stessa cosa che fa Miss Italia quindi Miss Italia cerca di valorizzare la bellezza, il talent show, una canzone per due, i talenti e poi tra le altre cose Miss Italia in qualche modo c'entra qualcosa con questo show perché una ragazza che ha partecipato a Miss Italia l'anno scorso, Martina Perrucci, ha fatto parte di questo talent show poi tra l'altro tra le ragazze verranno segnalate alcune ragazze, il nostro padrone Francesco Tommaso che poi appunto lavoreranno con la FMC Communication ma adesso io ti lascio, anche perché giustamente apprezzano più te che me, ti lascio parlare con il maestro perché so che volevi chiedere qualcosa, prego Passiamo alla parola, maestro Claudio Longo, io so che lei non è solo in famiglia Ti do il tuo allora, so che non sei solo in famiglia ad essere un artista perché tua moglie fa delle vere e proprie opere d'arte nel suo ristorante Le Mele Blu Sì, una chef del ristorante, sì, è suo, fa tutto lei In realtà, Salvatore, che è un vulcano, l'avete capito perché quando ha preso il microfono ha detto tutto è riuscito in pochissimo tempo, in due anni, a realizzare quello che forse molti produttori non riescono a fare in vent'anni Lui non ha detto tutto perché ha realizzato una serie di sitcom di venti puntate Un lungometraggio, appunto, che andrà nelle sale in tutta Italia, in tutte le multisale, uscirà a novembre Di cui io indegnamente ho fatto la musica e poi questa trasmissione che va in otto regioni anche su Sky Grazie a tutti